il contesto marino piace a tante persone la ricerca del marino secondo me è quella quella ricerca di una profumazione che ti possa ricordare le sfaccettature dell'ambiente del mare del della profondità del mare del senso anche di rilassatezza o di diciamo così meditazione che il mare te offre e certe volte capita di sentire o un profumo o l'altro ma qua il problema è proprio un altro nel senso che come ho sempre fatto anche in questa mia piccola recensione opinione personale te dirò esattamente quello che penso mi raccomando guarda tutto il video anche se un mattone perché è importante vedere l'inizio e la fine di questo video saranno delle cose molto importanti che dirò a maggior prova della mia onestà intellettuale nel recensire raccontarti un prodotto e dirti la pura e mera verità di ciò che penso su quel prodotto fatto il preambolo la premessa io e te ci vediamo tra 5 6 secondi pure 10 secondi subito dopo la pubblicità bello eh ti pareva così subito dopo la sigla ben ritrovato ben ritrovato come stai allora io oggi ho stravolto le regole del mio canale perché questo è un video che doveva uscire tipicamente la domenica e invece lo faccio uscire oggi venerdì 28 venerdì 28 eccoci qua ho dovuto anticipare ho dovuto anticipare perché in mano c'è una novità c'è una novità che se ne è parlato per un po di tempo nei vari gruppi di rasatura eccetera eccetera quindi un'idea un'ambizione che porta il nome di officina artigiana che già conosci officina artigiana milano già conosci sappiamo le qualità per chi l'ha provata lo sa benissimo sa benissimo la cura del packaging che è anche quello fondamentale scusami arrivano gli acciacchi le tasse facenti insomma e oggi è un po una sfida perché non so se andrà subito diretto o andrà per gradi perché poi non voglio che risulti un video un po troppo pesante appunto come detto nella nella parte iniziale voglio che tu lo guardi dall'inizio alla fine allora in questa officina artigiana milano e che mi è arrivata qualche giorno fa e l'intento è quello di ispirarsi a un profumo attualmente molto famoso che piace e non magari piace o non piace a seconda dei gusti personali così come tutte le cose e allora premesso io non faccio il profumiero non faccio l'annusatore però ormai un po mi sono abituato mi sono abituato a riconoscere le fragranze ci metto un po perché non è subito fai così un secondi hai capito è un po complessa una cosa la mission di questa officina artigiana milano tanto guarda ti faccio vedere poi andiamo avanti eccolo qua c'è un nome un po' particolare perché è stata chiamata mare moto quindi no è ispirato a mega mare di orto parisi per allora e io sono affezionato a officina artigiana milano nella prima versione ci ho messo anche la firma che non conta nulla perché io sono un qualunque però ha avuto un gran successo e sono contento perché significa che è piaciuta è piaciuta la qualità la profumazione e tutto quanto e io mi sono fatto un po' un'idea del della profumazione originale perché non l'ho mai sentita onesto è onesto però avendo letto varie varie fonti diciamo che la profumazione dovrebbe essere quella che un po' ho sentito dico un po' perché è molto importante sto passaggio si parla di una profumazione acquatica ozonata e verde ma io la definisco una fragranza quasi poliposa nel senso cambia la sfumatura a secondo del passare del tempo cioè come tre stati mentali diversi nell'arco della giornata la mattina magari c'è quello che si sveglia più allegro più attivo di quello che si sveglia sembra che c'è là col mondo poi passa magari la giornata lavorativa o quello che fa nella sua vita si stabilizza un pochettino e poi la sera va in un pochetto in down perché cerchi di riassarti arriva la sera sai che vai a annin o te svaghi in qualche maniera e quindi c'è una situazione mentale differente allora e c'è chi definisce il profumo il profumo come un con dei sentori dell'iquilizia metallici di ruggine di anche sfumatura di tabacco di ambra grigia che poi collegamento al mare c'è perché l'ambra grigia il vomito della balena che costa un fottio dei soldi ripeto è l'esperienza è molto personale però io sono rimasto un po sbalordino da che cosa appena mi è arrivata che sto video è lungo è appena mi è arrivata sono andato subito sull'aftershave l'ho aperto e l'hanno usato ho sentito qualche cosa me lo sono messo addosso sono uscito dal bagno te lo posso giurare e mia moglie mi ha detto ma che è sto profumo cioè mi guardava pure in modo un po capito ammiccante che è un momento tutti i minuti allora se è così l'ho guardata in quella maniera perché per un momento ho detto ma com'è che tu senti tante cose io quasi dopo qualche istante non sento non sento bene le profumazioni non le capisco non le percepisco preso le parole perché magari potresti un po fra intende quello che dico perché magari c'è quello che è arrivato fino a qua è assaltata la parte prima parte dopo e subito dice dichiara che ho detto che non sa da niente il mio problema è che avendo usato ho fatto questo esatto passaggio vabbè vedrai poi gli strumenti che utilizzerò è stato questo aprire fare così mariava una botta di alcol poi ho cominciato a sentire qualche cosina l'ho messo pure sul dorso della mano e ho sentito una parte iniziale di acquoso di quasi algoso acqua con alghe quindi l'acqua del mare con le alghe un padozonato anzi un salmastro tipo ma non forte eccessivamente forte che dice mamma mia no invece piacevole anche rilassante secondo me la fragranza proprio originale è quella di crearti uno stato anche di rilassamento perché comunque ha delle doti molto strane allora ho fatto così sentito la parte salmastra poi l'ho zonata e a fine diciamo di qualche minuto di qualche ora ho cominciato a sentire delle note verdi verdi sì verdi piacevoli rilassanti in qualcosa che a me ma stupito però il problema è che quando me lo metto in viso almeno per le prove che ho voluto sentire un attimo a testarla quanto dura la fragranza sono rimasto sbicottito perché quasi il naso sarà assuefatto completamente cioè io giravo dentro casa e ma che è sto profumo che senti è questo sì è quello quindi è molto particolare ma la cosa particolare è che aprendo il sapone aprendolo scusa te lo faccio vedere se no giustamente no sento un forte un prepotente no forte un prepotente sentore di sentore salino e metallico però non percepisco gli altri quindi adesso sono anche io curioso di sapere come va in viso cosa sento cosa se effettivamente il mio naso con questa profumazione va in saturazione premetto che il dopo barba te faccio tutti i spoiler possibili già nove minuti il dopo barba è qualcosa di mostruoso perché anche il giorno dopo con quella piccola quantità che mi ero messo in viso lo sentivano lo stesso io sentivo ancora il profumo verde sulla mano è strano è strano è emozionale ti ripeto poi ognuno nella profumazione ci sente qualche cosa di un ricordo c'è un'immagine del paesaggio una cosa qualcosa che stravolge un po' deve stravolgere un po' ripeto non conosco l'originale ma ho fatto un'idea sulla piramide olfattiva che tanti dicono ma non è dichiarata perché so che non è dichiarata e mi sono fatto una mia precisa idea e secondo me rispecchia quelle sensazioni che tanti hanno avuto allora se conosce ancora ufficienza artigiana milano ti dico che è fatta parte il packaging molto esaustivo cioè veramente esaustivo cosa importante anche come smaltire poi il vasetto eccetera eccetera è fatto in italia è un savone artiginale è arricchito il burro di carite ma guarda parte vabbè scritto in varie lingue perché credo che abbia un mercato molto molto florido allora qui ci abbiamo i 5 ore del benessere che è argan, jojoba, cocco, ricino, mandorle e vinaccioli ok quindi sulla qualità di questo savone ce li metterei la firma tranquillamente anche la fragranza un po' mi ha lasciato così perché è abituato a sentire ah c'è pure il caffè a portata di mano perché se il naso dopo un po' va in saturazione o a suefazione miglior modo è il caffè per liberarlo e li vai a nusà però adesso sento per esempio la parte quella acquatica che non è male per esempio a differenza del tempest che non parlavo troppo tempo fa il tempest è esageramente algato troppo secondo i miei gusti e poi ripeto è questione anche di gusto personale ma andiamo subito al suono allora ripeto non ho detto che non sa di niente lo ribadisco però in onestà ti ho dovuto dire perché poi vedi che il savone io non l'ho utilizzato perché io sto apprendendo sta cosa di fare la recensione vera e propria come se fosse quasi in diretta insieme a te perché non taglio niente almeno che mi suonano devo andare a aprire la porta e non te posso fare niente sto dentro casa quindi non posso fare niente allora vado a provarlo senza aftershave e vado sì scusa senza pre barba vado direttamente con lo stiletto in alluminio perché riesco a capirlo non ci trovo bene e vado con le caille che so per me le migliori che rispondono bene sul mio viso quindi premetto che c'ho una busta sana della mette nuove che nuove nel senso le più svariate che ho acquistato in giro per tutto il mondo e le vorrei cominciare a provare solo che il latte devo provare devo utilizzare un savone con il quale c'ho un bel feeling perché pure quello conta sembrano tutte stupidaggini queste cose ma alla fine fanno sì che tu possa raderti in maniera perfetta perché poi ripeto è sempre soggettivo ognuno di noi ha un parere un pensiero però io faccio il mio poi io ripeto creo i video quindi di conseguenza certe volte vengo preso un po' troppo come quello che ti difende per forza una cosa e quello e quell'altro io se mi trovo bene con le cose dico che con alcune non me ce trovo è la pura e mera verità perché non mi interessa neanche raccontare cavolate allora mi vado subito a sciacquare il viso e iniziamo perché già sono passato in quarto d'ora allora un'altra cosa che tengo a precisare subito ma subito proprio che la mia faccia non è quella di uno che è rimasto male è uno che sta cercando di spiegare cercare di farsi capire che è difficile molto difficile da chi magari vorrebbe comprare questo sapone e quindi essere subito chiaro quello che ho io percepito perché ho testimonianze di gente pure che l'ha sentito per giorni parlo dopo barba e sente benissimo anche le varie sfaccettature del sapone evidentemente c'è qualcosa io che non riesci a percepirlo per bene allora vediamo un po' intanto ti dico che è una pasta molto morbida molto morbida quindi in questo caso non metto più tanto acqua nel sapone anzi lo vado a prelevare con questo bellissimo eye brush barber pole bellissimo spettacolare vado direttamente piano piano che sennò si staccano i pezzettoni io non uso la tecnica che tolgo e metto in ciotola non mi interessa io vado direttamente così poi ognuno a gusto fa quello che gli pare un bel vasettoni e bello grosso ah davanti grosso massiccio proprio 150 ml tecerati penavita ok boh è strana basta cioè sentendo i oh ma è cascato un pezzettino mannaggia guarda vabbè ormai questa capirei è finita il tappeto cioè è un ma anche lo stesso profumo un po' un azzardo perché ho letto in giro varie varie recensioni varie opinioni di persone che lo hanno acquistato e che sono rimaste chi lo ha apprezzato chi non gli è piaciuto che credo che si parli di in quel caso profumeria di nicchia quindi molto particolare molto diciamo così vai tu vai tu ma adesso c'è la musica a palla molto 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 particolare le note verdi le sento ma le sento basse come quasi se non riuscissi a percepirle premetto che a casa mia tutti l'hanno sentito tranne me cioè il mix che c'è hanno sentito allora gli diamo un po' più di acqua come al solito tanto per esempio sporco non me ne frega niente anche che sto tinteggi a casa come vedi sta facendo una schiumata impressionante ma proprio impressionante però non so per quale motivo te lo posso garantire mi sento rilassato boh non lo so forse sarà l'effetto placebo che ho in testa da da stamattina boh non lo so la qualità del sapone è buona molto ma molto buona veramente ottima come vedi la schiuma la fa senza grandi problemi e senza grandi fatiche si idrata molto bene ok aspetta scusa sento quelle note ma ripeto proprio rimpicciolite purtroppo vado ok perfetto poi vedi inconsciamente io ho messo pure ma non lo giuro non l'ho fatta apposta inconsciamente la piastra blu non l'ho fatta voglio speriamo che non mi blocca nel video che stanno lo stereo un po' alto e spero che non mi entri dentro perché sono un macello per me quello che quello che voglio anche precisare per tutte quelle fammela sto sassolino dalla scarpa e tutte quelle persone che dicono che io dica sempre che è tutto buono tutto perfetto come vedi ho fatto una mia osservazione su un prodotto appena uscito dicendo la mia quindi non è perché io collaboro con il sito rasagodfella.com e allora non ho diritto di dire quello che penso no ce l'ho questa è dimostrazione attenzione e questo è il mio piccolo sassolino che mi posso levare e che mi rende molto sereno perché quando io parlo nel video capisco ripeto tutto quello che volete quello che non volete perché è lungo perché amico mio la rasatura è fatta così la rasatura è godersi la cosa e poi più che altro questa è una chiacchierata fra me e te io quando parlo con qualcuno non vado veloce oppure gli dico taglia predisco non parlare a quel punto e allora come vedi io la chiacchierata in onestà la sto facendo allora sulla qualità del sapore che cosa puoi che ti dica che non è buono vorresti questo ma io non te lo dirò né adesso né mai perché non posso di una bugia io ti dico semplicemente il mio pensiero che ecco è morto il faretto è bello così è mezzo hai capito non lo dico le cose è bello dalla presa diretta è questo aspetta aspetta no tranquillità non è uguale insieme a noi a fare sta musica non so che poi scusami un secondo scusa perché questa è morta così sta batteria guarda che è una cosa è una cosa stranissima era carica boh vabbè aspetta devo farlo con l'altra scusami un secondo ma non è per nulla perché me lo ha fastidio sto spostando il mondo il mondo ecco ci abbiamo giocato ammancia abbiamo giocato per batteria questa pure sarà scalica guarda che mattone di batteria che tu metti speriamo non casca a fare io ho cambiato posizione allora vedo un po' quanto sta questa è pure carica allora ti dicevo ecco qua l'unica cosa che mi rende un po' così è fatto appunto del suono perché sa youtube ti blocca poi il video per i copyright ah allora ti ripeto io ho sentito quella parte metallica però se sente ma non fortissima cioè non è una cosa che dici madonna che è una cassetta d'attrezza rugginita no sinceramente no però piacevole strana particolare perché era appunto un ossidato un qualcosa però salino piacevole per quello tra tutte queste manfrine perché qua spesso e volentieri c'è litigo è tutta la playlist insomma lo sentiva qui ancora non è migliorata la situazione purtroppo cioè rilassato non so manco perché ma guarda che strana sta cosa cioè è veramente strana manca di che non c'è il profumo cioè non non lo so non lo so strano però per esempio adesso mi sono avvicinato all'acqua mi sono toccato le mani ho sentito con l'odore di acqua certo è l'acqua ma non è che sa de mare questa c'hai punta bascia se ti interessa vabbè dai no non vado ma insistate più perché mi si deve riprendere un po' il viso perché l'ho stressato ultimamente dovrei fare una crescita un po' più importante poi io non sta iniziando novembre me dovrei far crescere il barbone allora morbida morbidissima piacevolissima come hai visto ammontato e ancora ce l'ho qui volendo posso un pelo d'acqua certo molte viene proprio mostrato inguardabile però per farti capire con quel poco che ho preso sono riuscito a radermi tranquillamente il visetto senza grandi difficoltà aspetta che ok a posto e adesso arriva la parte più bella perché adesso mia moglie non c'è a casa quindi dopo quando ritorna mi trova che c'è un testonda forte del mare impavita fugace perché la profumazione mi ricorda la tempesta perfetta il mare profondo sicuramente te fa pensare te fa rilassare sicuramente quello si quello si allora io da una piccola scegherata ne metto un bel po' un bel po' aspetta questa è sola la prima poi c'è anche la seconda dov'hai appena lo metti senti l'alcol senti l'alcol devi attendere qualche istante ma me ne metto proprio a bestia a ciavatta perché come mi ha guardato questi due giorni vabbè che non vorrei far scattare il quarto figlio però hai capito allora lo sento molto di più lo sento molto di più vivo lo sto percependo un po' di più l'odore l'odore quello dell'acqua un po' salmastra con il sottofondo del sale sento anche un po' quella parte non dico proprio metallica però un po' mi fa pensare strutture balneari quando ci vai d'inverno perché questo è un mare un mare moto particolare molto particolare sì se stavi oh sei emozionato inizio a sentire quasi tutto ti giuro stavano a venire pure i brividi non so se si vedono no penso che va ma se il braccio secco ma la parte buona lo sai qual è è che a distanza di ore perché si parla di ore oltre che tu ancora lo senti io sti giorni percepevo questa nota verde ma non sapevo neanche la piramide olfattiva di questo mare moto non la sapevo l'ho chiesta e sentivo questa parte verde e dico ma è possibile che ora non ci prendo cioè la sento ma non c'è o è qualcosa in combinazione che crea appunto invece c'è invece c'è e a fine non dico giornata è buono non so dura per ore dura per ore te lo posso garantire guarda qua c'è il peletto che mi dà fastidio dura veramente per ore quindi quando stai al mare d'inverno o in primavera a me piace più l'inverno per staccare la mente no cioè proprio per staccare la mente e vado lì e quando vado e quando arrivo sul pontile magari certo non la percepisci subito l'odore del mare di tutto il contesto capita spesso quando il mare è un po' più agitato perché creando schiuma quella un po' sale nell'aria e ti arriva al naso e quando ci vai la sera ti metti in là la prima cosa che faccio è che chiudo gli occhi anche d'estate lo faccio quando vado a guardare il mare chiudo gli occhi che pensa a te chiudo gli occhi e ispiro in modo lento fino a che mi seconfiene i polmoni e piano piano butto fuori e la sento tutto poi è più facile è il mare è lui non è un una cosa che lo ricorda è il mare fatto dei suoni è fatto dei luci è fatto dei pescherecci che vanno a largo per la pesca i rumori e lontananza dei stabilimenti che fanno musica le luci della città e l'odore che posso sentire quando sto sul bagnasciugato anche se io quando d'estate sto al mare quando è sera il mare è anche leggermente mosso non ci metto manco un piede dentro che mi crea mi crea un po' di ansia un po' di paura perché è imprevedibile il mare no? sì adesso lo sento quindi se ti sei perso lo so un mattone 30 minuti e passa se ti sei perso sto mattone e mi vai a di che ho detto cioè non te guardo manco in più faccia ma proprio no perché se ho voluto essere come sempre onesto ho avuto i miei dubbi però purtroppo all'onestà non non posso far meno non posso far meno ma non per paura di qualche attacco ma i calli non è che è perché se tu mi guardi e poi compri una cosa lo fai perché ti fidi di quello che ti dico e quindi per questo ho voluto fare sto mattone oh mi dispiace spero che tu abbia potuto anche leggere le mie espressioni non faccio l'attore perché se facevo l'attore magari guadagnavo tanti bei soldi mi divertivo ancora di più a fare quello che faccio è una cosa mi sarebbe sempre piaciuta fa ma non fa per me e so contento se l'hai visto se hai interpretato le mie espressioni lei ha capito e le hai reputate vere se hai reputato anche che ci sia stata dell'onestà per spiegarti questa questo nuovo progetto maremoto di Ufficina Artigiana Milano e se un giorno lo comprerai magari mi dirai se hai percepito le stesse mie sensazioni appena l'hai scartato e se dopo averlo utilizzato qualche cosina è cambiata io sti giorni non sentivo tanto l'odore snocciolato nel senso ogni varia fragranza ma chiedendo pure a chi mi sta vicino mi ha detto è un profumo da maschio da uomo una cosa che passa la parola perdona a tizzo così mi ha detto quindi io come sempre ti ringrazio per aver visto il video fino a questo punto sono molto contento buoni acquisti e buone sbarbate e niente io ho detto la mia fatemi sapere voi che ne pensate hai capito sapete che mo sai mare moto eh goduria strano strana la vita ciao 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 Grazie a tutti.